Valar Morghulis, qui e della cittadella, e oggi continuiamo il terzo episodio del gioco Game of Thrones della Teltil, intitolato The Sword in the Darkness. Con Myra che si prepara le nozze viola, Roderick che prova a fare il Lord, mentre alla barriera arriva una vecchia conoscenza di Gerred. Che bello, stanno preparando il Red Wedding e il Purple Wedding, sul Red Wedding che c'è già stato. Si divertirà Marjorie, col suo nuovo marito, con cui sarò sposata per tanto tempo, tipo 5 minuti. La stessa decisione di confiarare in ti, se Longue è il loro abonni, non lo so. Grazie, Myra, e voi sapete che riesco a te anche. Hold on, guarda. There he è. Lord Morghulis? No, no, nu-po di lui. Lord Tarwick. Non voglio essere una handmaidina fori sempre. e questa cascata può essere la migliore chance di trovare un figlio che ho mai avuto devo andare a parlare con lui Marjorie non potrà notificare per qualche minuto potresti farmi una scuola per me? per favore non ho chiesto per molto vai bene, sarà bene la cascata è ancora da giorni grazie, Mira, sapevo che potrei contare a te oh, era buona la guardia Lannister andiamo a chiedergliela gli sono fatto un bello stufato a fondo delle pulce oh, no, non potrei essere qui ma abbiamo bisogno di parlare non conosco quando ti vedrai prossimo guarda, quella notte non so cosa potrebbe che ci potrebbe essere in mente se non ne богi me posso dire lo stesso per te, Lady Mira ma c'è qui per te sono il che lo so fu qui buttata in Fleebottom la notte quando ho sentito alcuni guardi di lanistere parlano di... Sshhh! Sanno già che è morto. Probabilmente morto. Sanno questionando le persone, cercando il suo corpo. Scusate, mi chiedi che hai scoperto. Ovviamente! Ho detto che io sarei. Niente saperebbe quello che hai fatto. Cosa è? Cosa è? Se stiamo avvicinando questo, non ci sono alcuni dettagli che abbiamo avvicinato. C'era un altro Lannistergaard. Il mi ha visto con lui nel giardino. Oh, no! Hai bisogno di prendere la mano. Stai da parte per un tempo. Cosa? Lapsate a chi mi serve? Poi, non ne prendi più problemi. E io... guardare la tua parte. Siamo in questo insieme adesso. Io vorrei sapere chi è questo. Sono un amico, Lady Mira. Il mio nome è Tom. Siamo aiutati. Se solo non avesse la lingua. Cosa stai da qua? Ho detto. Ci sono persone che potrebbero aiutarti. Ci sono persone che vogliono aiutarti. Sono qui per sicuramente che questo succede. Sì, ma cosa? Dott'altro? Mi vuol dire qualcuno... Mira? Sono già qua. È andata male col tipo. Sì. 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 No. Sì. No. 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 Le guardie reali che servono per salvare la vita al re. Utilissime proprio. Sì, grazie. È tutto per il mio amore di Joffrey. Lady Margaery, non possiamo vedere l'occhio di tutto, ma spero che potremmo con me attraverso che i nostri handmaidoni dovrebbero sapere il suo posto. E questo posto non è con il mio fratello, Tyrion. È tutto quello che fa. È tutto il mio fratello. Non ho mai provato a te aiuto. Perché ti faci un problema per me? È solo una copia di vino. Non più. Non ho tempo o tempo per le vostre giuste, Margaery. Ora ora ti bisognava di essere miei handmaidoni e è tutto quello che ti bisognava essere. Va bene Mi toccherò usare i passaggi segreti Per andare da Tyrion Come fa con Shae Roderick con un po' di PTSD Roderick, sono le Whitehills, le stagionano nel corte Le stagionano nel corte Le stagionano la casa, non puoi lasciare questo a continuo Siamo a Roiland Adesso voglio, ah è vero, voglio da mangiare Dovevamo solto da mangiare, ricordo bene C'è un po' di meno, se io abbia il mio cammino C'è un po' di meno? Cazzo ride Maledetti ci prendono anche in giro con Griff Quando non hanno messo il vero Griff Cazzo ridurre la mia famiglia? Ora guarda te! Eh? Roderick the Ruined. Non conosco te Ma il nome si adatta, non è? Ateneci! Non sbagliare! Io sono ancora il lord di Ionrath e io riuscirò questa casa Questo suona come l'ultimo Roderick, ha battuto la sua pelle ogni chance che ha avuto Non credo che si arriva No il lord, non credo che si arriva Il mio frate Ethan non ha avuto Tu fissi la tua pelle Io sono in charge ora E la prima cosa che devi sapere È che se non mi sono felice Noguno è felice Cosa torneto Duncan? Passato un mesetto dell'altra scena Io non sono qui per mantenere loro in linee Io sono qui per mantenere loro in linee Tu non puoi solo fare... Tu non puoi fare... Tu non puoi fare... La raffermiamo Ascoltiamo la mamma Come avrebbe dovuto fare Rob con Catelyn Io sono il solo lord qui Come avrebbe 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 Buona cosa Il ha costruito questi soldi anche. Ramsey Snow ha matato Ethan. Cosa per evitare i Whitehills di fare lo stesso a Ryan a Highpoint? Non puoi farlo di sostenere. Ma dovremmo fare qualcosa. Atacchiamo Grande Inverno, dai! Tacca! Cos'aiutiamo Stannis a prendere Grande Inverno dei Bolton? Perché non si può... Se no andiamo a Bear Island d'Aliana a Mortmont e non si può Torrent Square che qua no, nella serie non sarà Dagmar quindi niente Castle Kerwin andiamo alla barriera niente, possiamo solo andare ad I-Point restare ad Iron Road di Pudmoth no, niente, Iron Rats no, niente, Iron Rats quindi abbiamo una casa per tornare a Ryan non lo scusate non lo scusate è deciso prendiamo la casa abbiamo perduto la maggioranza abbiamo perduto la maggioranza di Gregor tra i Twinti potremmo trovare altri 30 o 40 ma i Vitals sono già fortificati dentro di Iron Rats ma chiudiamo i Twinti Goodman di Rams e conquistiamo l'intercontinente con loro adesso che non possiamo più parlare con Tyrion chiamo lì provare chiamo lì provare questo è il solo modo poi ci seguiamo ci seguiamo ci seguiamo ci seguiamo le Whitehills non sono pronti per la guerra non sarà più tardi non sarà più tardi potremmo 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 bene un modo o l'altro c'è una guerra quindi ho molto preparato e i miei potremmo ma lord ma lord ma lord c'è qualcosa che possiamo fare ora a voice from High Point Gwynne Whitehill lord Whitehill's daughter the very same after the hells that came from her and Nasher despite all that she's willing to meet with you I may not be your sentinel but please consider this it would be wise to hear what she has to say arrange meeting what she has to say make her view I believe she can be trusted and she's caution nonetheless of course and I'll make sure no one else knows for now at least good handle things right with Gwynne and she may even help us in High Point when the time comes I want the dove pie served with a spoon of lemon cream we'll have to let the kitchens know and these flowers they're just all wrong in the crown lands mirror are you listening to me lady Margaery good tidings to you today thank you lord Tyrion and you lady mirror a word in private if I may that's so that's so who would I be to deny lord Tyrion very soon you'll be the queen and if you're anything like the current one I mean all you what do we do 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 very well just know that matter we discussed a royal decree sits on my desk now now I'll have my squire Podrick see to it at the first opportunity I thought you would want to know good news on a day that is already blessed thank you for telling me lord Tyrion oh one more thing the most valuable favor is a favor unspent perhaps I'll call on you for a dance at the wedding feast enjoy the festivities goodbye lord Tyrion lady Margaery welcome to the family for better or worse lord Tyrion if you'd only shared some wine with Tyrion why does he come to you now what's this talk of a royal decree you know what I didn't want you talking to him today of all days I made a deal with you for the crown to buy my family's ironwood sperando che non si arrabbi troppo how this will look House Forrester already has so few friends at court and when this decree becomes public you may find you have even fewer you disappoint me mirror we'll talk about this after the wedding Sarah will help me with my gown and hair but come with me Sarah Garen easy now sorry I was just keeping at the ready that's good don't lose that I understand your uncle paid you a visit what did he want not many people passed through here what brought him this far he was just delivering ironwood shields for the night's watch good our stocks are running low I know it couldn't be easy seeing him but you have to leave all that behind especially now that you're a ranger I I I know you had told me you could stand with these men but not every brother's a friend if it came to it and you were in trouble north of the wall any of them you'd trust by your side you know these men who do you want watching your back so good on John Snow he could be a real help I'm glad you can trust your brother I'll remember him Herald Holt of White Harbor call us Wells from Stoney Sept and finally we've got more spawn of nobility joining us no Britt Warwick of House Whitehill it can't be how's Whitehill make sure you're not bringing this one for the Bolton's there'll be a hot meal in the mess hall after that we'll be sorting out gear at the armory Karen Karen what's the matter? you know him? Mark get moving Karen that man murdered my family what? Snow see these new recruits to the maester don't do something you regret qua? c'è ancora maestro eemon in teoria ah no però nella sera era morto uuh no me ricordo a little party I'd do with your family don't think it's over best watch your back what are you waiting for recruit? welcome to the mall brother looking forward to it that's enough I said move I'll be seeing your farm boy e per oggi ci fermiamo qui per essere sicuri di non perdere il continuo della storia o il propriamente ai soliti video iscrivetevi mettete mi piace commentate e condividete ballardo eris